ok abbiamo iniziato per enrico ciao sabrina ciao conto da 15 scusami da 51 e ti connetti più profondamente a enrico 5 4 3 2 1 vedo che sta in un posto dove praticamente lui cammino contro vento c'è una sorta di tempesta di sabbia che le va contro quindi lui cammina contro vento verso al contrario rispetto a questa tempesta e si cerca di coprire con le braccia e ha vestito con del pellame come se fosse un posto una vita comunque passata a barra parallela ok ci dà l'autorizzazione sì con fatica chiuso come se percepisco di sì però è come se non riesce bene a non riesco a fermarsi per perdarmelo affaticato chiamare la sua ps la sua p e facciamoci dare l'autorizzazione come se da questa scena esce la sua forma energetica di psp e insieme vedrascono da questo corpo col quale lui si è presentato da una sua vita e girando su se stessa la psm dall'autorizzazione non lo dice così ok prima di iniziare dimmi quando hai fatto questo controllo fai quel controllo dimmi quando hai fatto e poi mi dirai controllo e azione fai quel controllo dimmi quando hai fatto questo controllo dimmi quando hai fatto questo controllo vibrazione di enrico vibrazione di enrico 12 miliardi percentuale di consapevolezza 97 per cento psp ps e di meno chi è 70 ok vite precedenti 5.180 però c'è bello tra il 7 e il 9 per cento causa esoterica di questo numero altissimo di vite domanda è una ps che fa fatica a capire le lezioni e quindi deve ripeterle 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 e come se lei cerca la perfezione quindi che non si non troverà perché la perfezione non esiste perché è tutto relativo perché tutto ha significato ma in realtà non ha significato quindi lei è molto tosta e dura torna e ripete alcune situazioni cercando un qualcosa fin quando non comprenderà che in realtà bisogna lasciare andare certe cose il più mondo e la matrice sono imperfette quindi la perfezione dell'imperfezione poi più lo cerca più più cerca la si come dire più lei si incaponisce lui si incaponisce sul cercare una direzione perfetta è più chiaramente la mente non distingue tra ciò che vuoi o non vuoi lo pensi quindi lo attrae e quindi è proprio il contrario ottiene situazioni di che le stelle sottolineano l'imperfezione questo succede ok questa vita di enrico a questo questa caratteristica sì anche questo dove lui è molto esigente su con se stesso e automaticamente essendo molto esigente nel con se stesso nel lavoro nel nelle cose di tutti i giorni vedo un'organizzazione sua mentale nel fare le cose lo lui lo lo tra virgolette nel senso buono pretende anche dagli altri ed è questo il motivo che c'è la sua come posso dire la sua scala di paragone non è rapportata alla realtà in cui viviamo cioè il mondo in cui viviamo le persone che hanno percorsi completamente diversi da ognuno di noi no e quindi è un questo è uno dei motivi per il quale lui diceva il discorso di sentirsi comunque fuori dal rispetto agli altri perché a un a una una scala di rapporto e che è troppo non troppo lontana se non è né un bene non male la sua però come posso dire dovrebbe un pochino essere più accettare alcune alcune persone non stanno ancora hanno il loro percorso quindi non pretendendo da se stesso lui pretenderebbe nel senso buono della parola nel senso vorrebbe che le persone fossero anche nei suoi nei ragionamenti con lui fa io vedo che lui si dice ma cavolo una cosa è così logica lui dice io vedo proprio dei momenti in cui discute con delle persone anche a livello non so lavorativo a livello e non comprende che magari quella persona non c'è arrivata per determinati motivi x non vuol dire niente vedo questa cosa qua forte va bene interferenze e teoria allora c'è un falco uniforme e sopra e questa volta viene un falco uniforme un felino che collaborano insieme perché comunque deve essere già la interferenza c'è falco uniforme col felino la vedo più devono essere un pochino più incisivi con una mente come lui quindi li vedo insieme vedo questo falco e questo leone è un umanoide con il viso da felino io vedo questo quando mi hai detto sono arrivati subito loro due poi sotto agiscono ci sono 34 e dl di cui uno in particolare interferisce a livello fisico nelle sue gambe nella sua circolazione sanguigna livello di gambe concentrano lì sì e poi su 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 e sopra di tutti vedo sempre zeus ok gli altri 3 dl che fanno che sono entrano e escono e intervengono è come se perché dl aumentano e portano all'ennesima potenza la tua particolarità che che la portano a un livello tale che diventa un incastro mentale e da lì ecco che poi entra l'entità mentale parliamo del discorso perfezione del discorso di tenerlo fermo finché le cose non vanno come dice lui e quindi a volte basta del tempo rimanendo in un circolo chiuso perché chiaramente le cose che accadono all'esterno e interferisci tu se tu ovviamente che te la trai però nel momento in cui ti incastri quel discorso che facevo prima tra i tool il come posso dire rimani chiuso lì cerchi qualcosa che non trovi non puoi trovare e quindi loro intervengono in questo se ci sono dl ci sono in bagnato se ci sono dl ci sono entità mentali una al terzo livello secondo livello ma terzo secondo livello una sola una sola si è la capa dei 4 dl sulla che manda gli ordini se io quello vedo più a livello del cell c'è la questa entità mentale che parlano gli edl però diciamo l'interferenza maggiore la vedo da questa cosa che vedo della falconiforme con leone collabora la vedo più dalle interferenze ok nome dell'entità mentale e compito section come per section 10 il compito è quello della mania di perfezione mania no però insomma la voglia di essere bravo di essere di essere che tutti facciano le cose come dice lui ok quando è arrivata nella sua vita la sentita mentale perfection giocava con dei dati vedo ho mostrato mentre parlavi perché lo vedo sempre in contemporaneo vedo dei dati da bambino era piccolo avrà avuto 5 6 anni vedo che faceva come un gioco mostra una scena come un gioco non so da tavola che ho tirava dei dati giocava con dei altri bambini e lì è scattato come se avesse aperto fatto entrare diciamo questa apertura verso il devo vincere devo essere il gioco non voleva manovrare lui come posso dire quindi le calcolando e comunque parliamo sempre di un collegamento alla mente collettiva che ce l'abbiamo perché per forza siamo collegati alla mente collettiva ma l'entità entra nel momento in cui comunque sempre c'è un un'apertura non verso una bassa vibrazione voglia sapere ma tu sai cosa un grifone è un leone con la parte bassa di falco o un falco con la parte bassa di leone qui c'è un grifone visto che c'è un falco uniforme un felinoide ora quando me l'hai detto ho visto questi due che si univano e diventavano un grifone e poi però se lo guardo lo blocco si divide quindi diventano un umanoide con la faccia da leone e un falco c'è un simbolo naraldo uno stemma grifone in tutta questa storia da qualche parte il collo collegato a col lavoro che diceva lui primo cioè che è come se fosse collegato venisse da lì fosse collegato a quella quella tipologia di situazioni di lavoro diciamo viene dalla vengono dalla ok mi sta facendo vedere uno stemma scrivimi pure ricco cos'è quello stemma tutto stemma di famiglia se siamo si può anche farmi un gesto con la testa del tuo stemma di famiglia niente si è fermata l'immagine ok aspettiamo un attimo vedevo anche io mi sono un attimo al salare vibrazioni perché vediamo una di me vedevo come se mi passavano qualcosa davanti ma non c'è niente quindi dicevo enrico è tuo stemma di famiglia ok scusami non ho visto il sì ok va bene quindi ci stiamo parlando stiamo proprio parlando di rifoni va bene e impianti eterici e se ci sono sono rari ma a volte ci sono impianti mentali allora io vedo delle pallini sulle gambe che scorrono cioè che scendono dalla coscia verso giù verso i piedi e questi gli servono sono stati messi da questo essere qui che abbiamo visto questa sorta di di grifone che poi si divide io lo vedo che si divide e per rallentarlo controllarlo e dicono come se di controllare la il flusso del sangue sulle gambe quindi energetico comunque come di un senso di pesantezza di stanchezza io vedo usano tanto questi questi pallini qui poi ne vedo uno un altro pallino di ferro qui sulla sulla fronte sulla testa poi e polso destro c'è qualcosa e stomaco la bocca dello stomaco blocca per emotività blocca non in verità e i mentali io vedo solo la l'entità mentale gente agisce poi nel tale che vedo vedo più e deriva l'intensi di interferenza diciamo entità mentali collettive ci sono che non ho capito con cosa intendi mentali collettive sono entità mentali non lo so generiche allora le entità mentali sono specifiche per ogni persona no se ci sono poi c'è la mente collettiva e che il posto in cui ci sono queste entità mentali una grande nuvolona le entità mentali collettive sono delle sottonuvole nella nuvolona quindi non lo so c'è quella per posta ce n'era una di recente proposta a alla preoccupazione per la situazione cinivac no e quindi è un'entità mentale a cui sono connessi tanti poi questi tanti possono avere la loro specifica entità mentale livello 2 livello 3 livello 4 con una sfumatura di questa paura per il cinivac quello che vedo mentre parli a questo come se fosse uno schema è come se fosse io lo vedo molto computer molto proprio già già pronto già fatto così quindi io vedo la la mente collettiva con una grande forma come fosse un piattello metallico ma vedo così intorno c'è dell'energia per un po artificiale questa mente collettiva da qui vedo come se ci sono tutti i settori e tutte noi le chiamiamo entità qui se adesso mi avvicino è come se mi avvicino le vedo proprio energia elettrica come posso dire proprio artificiale questa roba qui è diversa dall'entità eterica perché l'entità eterica io la vedo comunque con uno spirito diciamo una qualcosa di energetico mentre l'entità mentale no la vedo completamente esatto computerizzata quindi ci sono sopra dei settori e delle degli esseri che sono dedicati a e poi in realtà io vedo questo è come se siamo noi e la persona poi ci sono sotto categorie le sotto categorie e poi è la persona che a quel pensiero cioè la crea cioè la prende prende un pezzo di questo di questi entità di questi esseri che sono computerizzati e come se ci si collega proprio perché a quella bassa vibrazione che corrisponde a lui l'attrae e rimane lì e la fa sua come posso dire è la persona che la prende e la fa sua perché gli serve per fare quel percorso per far sì quindi in in linea generale sì ma poi in realtà ognuno di noi la personalizza come posso dire diversa questi sono gli impianti quindi basta come si causa tutta ricadella stanchezza quindi con l'impiantoria le gambe io vedo che utilizzano molto lavano molto l'energia da lì perché lui è ultimamente lo vedo come se fosse più statico lui era più ultimamente si sia più fosse più fermo anche parlo a livello fisico e quindi è come se tutta la sua energia la sua anche il flusso del sangue non rimanga lì si concentri e lo utilizzano del sonno del caso di struttura del suono disturbato ci sono due abduction dalle due alle tre al mese con poi dei dei periodi che non lo che non ci vanno perché come si aspettano che che poi si ricarichi proprio che sia proprio bello carico bello pulito io vedo questa cosa qui quindi intanto gli abduction che aspettano che si ricarichi infatti stavo cercando di vedere questa cosa perché lui ha una un'energia particolare come se fosse l'energia mentale molto mentale e teorica mentale ed è un eterico il mentale con poco utilizzo di anima quindi con poco poca emotività poca emozione cioè non dico che non prova le emozioni però le le prime un pochino lui le emozioni interviene poco l'anima di lui e vedo che come in maniera generica in lui lo vedo che mente brillante diciamo così e spirito fanno l'essere che per loro è più come posso dire più facile per loro utilizzare perché c'è meno anima viene viene utilizzata meno l'emotività quindi è più adatta un'energia più adatta portarla verso quello che serve a loro a computerizzarla ecco chiama la ps che alza solo al 30 per cento noi siamo qui lei è al 30 per cento viene dice cosa vuoi ma come cosa vuoi siamo qua per lei e lei che ci ha chiamato poi cosa vuoi lo dice sua sorella mi dice così mi ha detto così dice io sono schiacciata un po e come se lo spirito e la mente la mi reprimono non mi permettono di esprimere quello che vorrei esprimere ecco perché io torno anche riesco a esprimermi perché non dispone che sono paura la ps ha paura sì perché poi lei dice perché poi è come se se io mi apro e inizio a dare gli input di emozionali non saprei come gestirli preferisco volte di darli però vorrei vorrei essere piattivo però lo è in questa vita e anche in tante altre non non mi interro non mi dà spazio chi è che si oppone alla mente il corpo che hai scelto tu che hai deciso tu quindi lui 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 se tu e tu sei lui quindi sei tu che fai 5.200 vite e non è ancora capito le basi sei tu che vuoi essere perfezionista nel mondo imperfetto si viene a fare l'esperienza del mondo in perfetto non viene a farla da perfezionista nel fare l'esperienza e basta e cerchi di capirle le tue elezioni dove vai a ripetere almeno 500 volte ogni lezione faccio 100 vite ogni lezione se è una ripetente se un asinella non riesco a parlare uno spedo con la mente perché non riesco ad arrivarci ma tutte siete uno perché non prendi questa informazione dalle altre perché non prende le informazioni di cui stai parlando dalla mia parte subliminale per esempio le formazioni sono lì non mi ascolta va a chiedere come si fa a farsi ascoltare interroga per esempio adesso la mia ps e fatti spiegare come si fa si sta male poi però perché perché provi le emozioni emozioni dopo le devi affrontare un sample su belle quindi in volte preferisco scegliere di lasciare spazio alla mente e allo spirito e stare a guardare perché così non sto male lui non sta male le reprime io le reprimo non riesco a mi convinco che che non che è tutto ok che tutto da una razionalità anche se poi sto scoprendo che ci sono cose che non hanno una spiegazione logica vanno sentite basta per questo che io sono qui oggi perché ho capito che devo imparare a sentire che lo sento lo sapevo che c'erano delle cose che non mi quadravo però è come se a volte sono addormentato siamo addormentati però oggi io credo che riuscirò avere più spazio se lui riuscirà a comunicare con me potremo accederà accelerare il processo di comprensione per poi fare altro va bene prima disconnettiti da questa canalizzazione naturale con la parte subliminale di enrico come fa bene però la leggera sentivo molto mi faceva male il petto ok facciamo un'analisi veloce del corpo emozionale quali emozioni ci sono non accettazione vedono un'accettazione di tutto praticamente nel mondo c'è lui non accetta il mondo lo vive lo percepisce ma non lo accetta non lo comprende cioè fosse per lui butterebbe tutto giù ricomincerebbe da capo a modo su lui ha tutto il suo progetto nella sua mente quindi non accettazione rabbia ma della rabbia represso poi a un velo anche di tristezza dice vedo come se ci sono dei momenti in cui si si chiude prova questo senso di tristezza nei confronti di tutto quello che che non che non cambia che non che non evolve lei e lui ha conoscenza anche di cose che che sa che che non tutti sanno che che non mi piacciono quindi il tristezza tristezza e ram insieme ok causa esoterica del fatto che da sempre tutti lo invidiano tutti gli chiedono tutti prendono tutti poi spariscono tutti vogliono salte di carriera tutti vogliono posizioni di favore favori e lui a volte li concede poi spariscono quindi sfruttatori profittatori da subito spazza l'anima è come se in realtà lui inconsciamente ecco è qua proprio per scoprire anche le cose insomma che si nascondono nella sua parte più più profonda ma lui piace questo lo vedo questo come se in realtà lui tramite questo suo questa sua cosa perché la vedo reale vedo le persone che le chiedono le cose che lo ammirano vedono che vedo che vorrebbero aver fatto il suo percorso vorrebbero però in realtà lui che l'ha creato se lui si pone così perché lui piace questo quest'anima piace cioè lui è che è creato la situazione di avere gente che gli chiede cose si è creato la sua carriera a lui piace cioè lui a lui piace vedersi tramite gli altri e lo è veramente per carità ma c'è la sensazione che gli piace vedersi importante e utile e quindi automaticamente è una cosa di cui proprio lui se ne è nutrita di questa cosa che gli piace bisogno è una sensazione si è un bisogno si in realtà è l'anima che lo crea che la crea chiamiamo visto che questa cosa riguarda anche la compagna chiamiamo se sei d'accordo enrico la compagna nel cinema ad assistere se vuole alla sessione e se vogliono tutti i parenti vivi di enrico per esempio lo scappestrato per esempio il suo figlio la sua ex moglie allora da lontano quando abbiamo detto di chiamare le persone nel cinema io ho visto il papà però vedo una differenza quando io chiamo cioè di qua che sono vive lo vedo dentro al cinema poi vedo lo schermo del cinema quindi le sedie lo schermo e dall'altra parte come se ci fosse un un separato una cosa che separa tra il nostro mondo e il mondo loro cioè di là dal di là vedo un signore che sia che si avvicina come per dire io sono già qua stavo già vedendo quindi prima è arrivato il pub il padre e poi è arrivata una signora con un cane calca un guinsai buonanotte scusatemi a un cane al guinsaio sulla sua destra marrone e un gattino vengono con lei sono le parti deliche di animali quindi la signora se la compagna si è seduta con un cagnolino e un gattino davanti in prima fila che guarda la lo schermo quindi guarda la il suo lavoro e dall'altra parte c'è il padre che già è qua il padre di erico ma il padre che non è vivo infatti è dall'altra parte c'è lo vedo vedo la differenza tra una ps viva una ps che non è più qua quindi non che dell'acqua di ritiro un attimo nel cinema c'è la compagna e la compagna che alla signora col cammino e gattino e poi dietro lo schermo come se ci fosse una cosa che separa dal mondo vivo il mondo morto vedo morto scusarmi il mondo insomma l'anima che sta dall'altra parte dietro lo schermo sta quindi non nella parte anime vive ok quindi non nel cinema delle persone c'è il padre chiama i genitori quindi anche la madre arriva una signora con dei capelli castani corti tipo ricci si presenta così alle mani sporche di farina e si avvicina al padre cioè non si avvicina tanto al padre l'ha visto e rimangono distaccati però come se non volessero più di tanto cioè vogliono assistere a questa cosa ma non vogliono tra di loro interagire di tanto c'è tra di loro il marito e moglie e si sono interferiti partiamo dalla moglie cioè dalla madre angeli tanti angeli padre una cavalletta ok apriamo il portale aureo e diamo alla madre a padre le informazioni relative al portale auro che sono sempre le stesse non le ripetiamo io le diamo le diamo loro a lei a lui e vediamo cosa fanno può anche essere che se ne vadano senza entrarci stiamo dando le informazioni con una pioggia la pioggia che li lava a tutte e due la mamma se a destra il padre sulla sinistra e la mamma mentre piove come se si pulisce della farina delle mani sporche di farina si pulisce e diventa più giovane niente una signora medio di media altezza con i capelli lunghi marroni mentre il padre mentre piove cambia il vestito si mette un vestito più più pulito più pronto per il suo viaggio dicevo io è un viaggio importante quello che sto per fare perché dopo aver preso queste informazioni adesso vado a fare il mio viaggio importante il vero viaggio che che quello che conta perché a qui che si riascia a comprendere tante cose in una frazione di secondo il padre ok pronti ad andare messaggio se vogliono al figlio che grazie a loro che grazie a lui che loro sono qui lui e lei il padre dice che questa cosa è molto molto importante lui sta dicendo dovrebbero passare al telegiornale un po difficile questa cosa che succeda almeno per il momento finché non crolla un po un po di roba qua lui dice che sì è interessante perché la sera le persone si dovrebbero mettere seduta al divano con il proprio telecomando e girare le sessioni perché se vuoi non possono fare con youtube lui piaceva stare seduto sul divano il suo divano il suo posto aveva quindi sarebbe stato interessante invece di guardare il telegiornale guardare questo dice il padre lo ringrazia c'è rimasto male per il fatto che una certa persona non è andata al suo funerale si era lì nel funerale al funerale non ho capito scusa c'è una certa persona della famiglia di enrico viva che non è andata con delle scuse al funerale quando poi enrico se ne accorto ha litigato furiosamente con questa persona perché giustamente molto molto legata a questo uomo quando è mancato ma si vennero accorto ma non era io ero incastrato e li ancora non capivo cosa mi stava succedendo quindi mentre loro erano lì in realtà io ho capito che nemmeno serve fare tutto quello il risentimento tra questa persona e enrico ha quindi senso no assolutamente non ha senso perché non ha senso questo ovviamente per enrico lo ricordo è il punto di vista del padre enrico quindi va bene messaggio della madre di enrico lei dice sono fiara di te quello che sappiamo insegnando è stato sempre comunque personalità e sicurezza intenzione e ce lo hai messo e anche qua se lo stai mettendo arrivare in fondo non lasci le cose a metà non ti piace e questo è importante me io lei è contenta di questo pitti mi ringrazia perché finalmente possono avere quell'ultimo step che manca verrà essere liberi e senti a prendere il percorso che che lo sta aspettando che desidero sono pronti ad andare vogliono si sono hanno due portali diversi audi però non vogliono condividere lo stesso perché perché c'è ancora qualcosa che devono comprendere ancora poca consapevolezza in questo se ce l'hanno uno con l'altro però capiranno ancora tanto capito ma preferiscono dividere il portale i portali possono essere diversi ma secondo me vanno nello stesso posto certi si è una presa di posizione è quasi simbolico va bene ciao ciao e vadano andati bene torniamo ad enrico causa esoterica di una vita in salita faticosa destino avverso ritardi spese improvvise affari che saltano nella vita che ci ha fatto vedere all'inizio no è il suo modo di affrontare le cose lui non è contento se non è cioè le cose troppo semplici si annoierebbe in realtà la sua anima che crea queste questi incasti questi giochi questi questa modalità che ricollega infatti alla vita che ci ha fatto vedere dove lui camminava contro vento doveva riuscire a camminare contro vento e alla fine riusciva a camminare contro vento quindi è come se lui abbia comunque bisogno di inconsciamente ma adesso lo sta capendo di auto sfidare sfidarsi sfidare le cose e sentirsi che ne è capace cioè come se fosse una dimostrazione a se stesso per lo più ovviamente avendo questo di questa tipologia di questa modalità la sua anima ha attirato entità che gli danno il carico da 11 ovviamente quindi più su c'è il leone particolarmente questo rifone sente le persone gli manca l'aria se la persona è diciamo negativa invece un certo benessere se la persona è positiva legata conosce le persone è legato molto alla sua spiritualità la sua parte eterica quello e non che la niente 6 che sai più anima senti di meno di più però diciamo che è una parte una particolarità io la vedo anche molto ciò a quale siamo legati tutti e legere legere spirito e quindi avendo di più questa utilizzando di più la parte eterica quindi la parte proprio spirituale e schiacciando la parte emotiva quindi anima è più riesce a percepire di più la la vibrazione della persona più che bene o male percepisce la vibrazione mese risonanza con lui e si sente meglio se non è se in dissonanza con il suo spirito sente come una scossa come qualcosa che non gli uomo si è sempre sentito diverso dagli altri in un contesto non suo con un compito nella vita che fosse non ancora raggiunto perché quello che dicevamo primo ci sono diversi fattori intanto la ricerca di un qualcosa che lui è in continua ricerca di non si ferma e va bene da una parte ma non si accorge che tante volte quello che hai apprezzare prima fermarsi e guardare quello che hai raccolto quello che hai raggiunto no invece lui raggiunge e riparte raggiunge e riparte come va bene raggiungere un obiettivo comunque sentirsi di aver fatto qualcosa di buono di averlo concretizzato però e poi ripartire perché altrimenti se ti fermi non c'è un'evoluzione però ci sono degli step se come se deve ha bisogno di fermarsi all'autogrill questo quest'anima lei fa questo viaggio non puoi continuare a viaggiare in autostrada senza mai fermarti cioè di fermarti e prenderti un caffè poi di fermino per andare in bagno ecco lui non lo fa e quindi è questa questa cosa di non riuscire a fermarsi e raccoglierli frutti a goderseli no anche godere un attimino se non si rende conto si fermo sabrina apriamo solo una parentesi un secondo e facciamo un lavoro energetico sei voglia tu sei qualcosa dell'agenda 2030 ho letto qualcosa ma no ok guarda la livello eterico dimmi se immacolata interferita se interferita da chi quale vibrazione a teoricamente l'agenda l'agenda 2030 vuole il bene del mondo vuole un improvement un miglioramento in tutti i campi salute cibo combattere sconfiggere la fame nel mondo è stata presentata accettata da tutti i paesi nel mondo insomma tra l'agenzia 2 trans umanismo ok si trova riesce a individuare l'archetipo dell'agenda 2030 cioè diciamo riesce a rappresentarla e metterla qui davanti a noi che strano si vedo una un libro di legno con una croce sopra e sopra questo grifone così ok adesso facciamo un lavoro sabrina se tu vuoi mettiamo 8 ad eternum infinitum intorno a questa agenda mi dà fastidio questa roba qua li rimetti intorno 8 poi perpendicolarmente a questi 8 come se stesse disegnando il lo scheletro di una sfera no con dentro l'agenda ne metti altre 8 e sull'altro lato in realtà no su tutte e due sono solo due cerchi con cioè due cerchi incastrati come se fosse lo scheletro di una sfera che poi tutti stendi con un telo e dentro quindi sopra inglobato nell'agenda un gigantesco ad eternum infinitum se l'agenda è mossa da buone intenzioni e ha bisogno di essere supportata queste grandi emettitori eterni e non spostabile di energia l'aiuteranno se gli intenti sono quelli di fottere il genere umano e le parti subliminali ed eteriche li bloccherà l'agenda verrà bloccata immediatamente per sempre definitivamente tutti coloro che si dovessero avvicinare a questa nostra costruzione energetica riceveranno una d'eternum definitivo attaccato alla propria testa o forma energetica come se l'abbiamo si mentre parlare ha fatto tutto il lavoro e adesso innanzitutto è un libro diverso trasparente come della carta di carta scusami non trasparente è come se fosse cambiato quello che ha scritto dentro ma se dentro c'erano delle scritte delle cose che andavano fatte in determinati momenti prima o poi è come se sono cambiate sono state sono modificate ed è già questa l'abbiamo avvolta con questa energia di pulizia diciamo così e a seconda dell'intento appunto il nostro ad eternum si attiva nel caso in cui gli intenti non sono quello che dicono ma già è attivo però io ho visto la di eternum nel mente nome perché poi vedo sempre tutto in parallela già io lo vedo proprio come un come se scoppiasse questa pallina che mettiamo e che scoppia quindi è già scoppiata per fare per attivare tutto un processo ok enrico in passato ha fatto parte di varie organizzazioni diamo anzi di ad enrico di imparare insegnaglielo a fare un ad eternum e chiedigli se vuole regalare un grande ad eternum a ognuna di queste organizzazioni allora lui mi mostra non lo fa così prende un sacchettino di iuta e dentro ci sono tutte le vedo me le mostra come biglie che sono tutti ad eternum che io ho mostrato perché lui mentre lo facevo ovviamente lui è qua e ha già preso l'informazione molto attentamente quindi ha preso questo sacchetto di iuta con le biglie che sono ad eternum uno se lo tiene lui in mano ed è per lui e poi offre queste biglie di ad eternum ad alcune persone importanti che lui conosce e le prendono lui in realtà non deve offrire proprio niente lui ha fatto parte di questi gruppi e di fatto dico che appartiene ancora ma ti sei staccato in ricco completamente ok allora può offrirla può solo offrirla sì viene accettata ma ne dubito fortemente 25 per cento dei partecipanti a questi gruppi dei partecipanti sì che lui di cui lui vorrebbe dare informazioni cercare di far comprendere però solo il 25 per cento la prende però lui dice va bene così io io intanto l'ho presa intanto ho compreso tante cose come vedi la sua capacità di creare una d'eterno ma va bene bravo sì perché ci sono accanto io ok vuole impararlo anche la compagna mesi g si alza si è girata che stava guardando lo schermo quando l'abbiamo chiamata si è girata mi ha aperto la mano e mi ha mostrato ecco imparato visto come fai tu facile da qui è più facile farlo ok quindi visto che ha imparato enrico la compagna pure siamo contenti cosa vuole fare con questa nuova questo nuovo skill questa nuova capacità vuoi utilizzare la mia energia in maniera più costruttiva e rallentare un po il mio cani la mia vita un suggerimento step 1 corpo emozionale banalmente semplicemente un emettitore di alta vibrazione frequenza mettiamolo lì vediamo che succede c'è un'apertura è come se ho visto la di ternum che si apre nella parte nel corpo emozionale ed è come se l'anima e diventa più grande prende più parte a questo giro di vita come posso dire in questa vita quindi è come se inizia a provare più a lasciare più spazio a sentire di più le emozioni queste emozioni a bassa frequenza che abbiamo visto prima esistono ancora no in questo momento è io la vedo avvolto da dalla voglia di emotività quindi questo momento lui è come se ho visto la di terrum nel suo corpo che scoppiava io lo vedo sempre così energeticamente quindi questa botta bella di energia che si apre e dove vedo l'anima che comunque come se si pulisse no come se posso dire perché lo vedo ma è difficile a volte spiegare il concetto si allontana la parte negativa come la allontana quindi nel momento certo in cui c'è questo tipo di energia non può coesistere un'energia a bassa frequenza è impossibile in questo momento quindi quando l'abbiamo lui l'ha messo l'ha aperto ho visto proprio l'energia sua che si apriva quindi l'anima che era più brillante e più spaziosa come posso dire non so se mi sono spiegato e quindi la le emozioni a bassa frequenza è come se vedo che si sono allontanate ancora non l'ha buttata nei portali l'allontanate c'era di turno che scoppia l'allontana non può stare un'emozione a bassa frequenza con una frequenza così alto che fai prendere quelle che ha allontanato la d'eternum a enrico nelle sue mani e le butta in un portale definitivo non si sa mai sì sì e andiamo al cluster ok la buttate adesso non molto già più luminoso cluster curiosità sono 5.180 contratti no di meno tanto di meno mille di meno ok quindi è possibile che ci siano mille vite che lui ha ripetuto con lo stesso contratto quindi mille ripetizioni dovrebbero essere 4.180 vite in sostanza se fosse un percorso perfetto invece volendolo e volendo le ripetere non avendo ne spanno me a spanne ovviamente come discorso sì perché non è detto che ogni vita è un fatto no perché se non lo risolvi rimani lì quel patto non lo ripeti così come non è detto che ogni vita abbia un patto solo però diciamo che in generale ne stiamo prendendo le cause esoteriche che non hanno nessun valore no stiamo vedendo l'energia che non è riconosciuto da nessuna scienza quindi stiamo qua gioca di fatto e lo sappiamo però questi giochi portano dei buoni risultati a volte anche degli ottimi risultati a volte anche dei risultati straordinari e questo è quello che ci interessa e poi rettiliano esiste davvero è solo un'energia oppure un'invenzione sta di fatto che la causa se la causa del mal di schiena era rettiliana ma di schiena se ne va noi siamo contenti e abbiamo finito no bene cosa vuole fare di questi batti mi mostra come proprio dei libri sono tutti libri uno sopra l'altro c'è un tavolo stavo vedendo perché era indeciso su come mostrar meno per questo ho perso un attimo dei secondi alla fine me li mostra su un tavolo tutti sul tavolo tutti messi lì tutti i fatti messi lì vuole eliminarli no solamente perché ne ha preso portale definitivo e via quando ha finito sa creare la d'eterno ne lascia uno lì nel cluster vuoto spinge questa questo tavolo con tutti i fatti lo spinge dentro il suo vortice il suo buco definitivo ma spinto via poi lascia un abbiglia lui la gli piace vederlo così ma d'eterno mi lascia una biglia lì che scoppia e quindi che si attiva una grande vibrazione avatar e scoppiato quando siamo andati su sia lui mentico piacciono piacciono gli scoppi è scoppiato l'avatar bene andiamo a prendere tutti i pezzi a da prendere tutti i pezzi li mette con la scrivania il computer tastiera schermo e in un portale definitivo e anche qui come il cluster quando ha finito non c'è più niente qua è molto importante metterlo un bella d'eterno modo tale anche che dia fastidio agli avatar che ha accanto oltre a così dire come dire sancire la fine di un avatar nel suo campo nel caso delle sue parti subliminali fa parte subliminale ha fatto fatto già noi molto scoppiattante ha messo una biglia che poi ha ripulito tutto ha lanciato tutto nel buco nel suo buco personale dice questo il mio buco personale non so perché ma lo sottolinea come se vuole farmi vedere che ora ha imparato a farlo consapevolmente proprio e poi lascia una biglia in questo posto buio dove ci sono dall'alto vedo tutti gli altri avatar ma nel suo posto ormai non c'è più e che scoppia di nuovo ed è come se lancia una una botta di energetica come se fa abbassare gli altri avatar da una botta energetica così ci sono degli avatar di persone che conosce lì vicino se ne sono alzati 3 sì c'è senso alzati da sedia questi in piedi si con benetto che conosce tre a ok di chi si può dire chi sono già chi sono collegati alla ps della figlia figlio un amico una persona quale lui ha un contatto non è un amico è una persona con quale ha dei contatti lavorativi negli ultimi giorni la audio con questa persona un uomo e poi la compagna ok se vuole lui usando il principio non lo so delle lampade allogene con il dimmer non so se ne hai mai usata una no c'è una specie di levetta su un binario dritto e tu aumenti abbassi la luce e ne diciamo che questo ad eternum è al minimo della luce lui può alzare la potenza già estremamente elevata del suo ad eternum in modo che il raggio d'azione della sua luce diciamo delle sua vibrazione aumenti e dia fastidio al massimo numero e gli avatar che intorno l'ha fatto lo sta facendo ok con queste nuove condizioni ci sono ancora griffone falconiforme di lei e dl 4 zeus entità mentale perfection tutti gli impianti le abduction c'erano no si due al mese intermittenza c'era un primo c'era un colore ok c'è qualcosa no nel momento in cui pulisce la l'avatar qui da questo punto di vista sai praticamente all'inizio di tutto quindi è come vedono il solito torno sempre indietro perché come se blocco il tempo e vedo tutta questa roba di tutto quello che abbiamo nominato quindi l'entità gli impianti eccetera che lui li vanno via non siamo all'avatar li lancia via è proprio una scia una botta di pulizia finale qui bene una di perno nel nel subliminale nell'eterico e nel fisico nel corpo fisico in questi tre corpi ok un'occhiata alla compagna alla casa è contenta non so se la compagna sapevano quello che stava facendo però sembra di sì come se ne ha consapevole o quello che stava facendo che cosa in ricordo a livello sì di di qua non lo so se tra come se lei a livello consciosi una cosa segreta quella se la fa cosa ed è rimasta molto contenta quasi da voler fare anche lei una polizia ok controlliamo la casa per lui è pulito perché adesso lui ha messo i suoi le sue piglie di ad eternum uno in ogni stanza vedo per essere sicuro può mettersene una in macchina può mettersene una nella borsa quando viaggia per lavoro può mettersene o farne quante ne vuole quelli che erano al cinema oltre alla compagna chi erano e cosa fanno nessuno nessuno figlio rimasto solo no rimasto solo lei va bene messaggio finale di psp e di enrico a lui ma prima vediamo la sua nuova vibrazione 57 miliardi la sua nuova consapevolezza 275 per cento psp e la ps 53 anche di più vite precedenti sono curioso 4.000 4.000 e 14.000 cervello 9 per cento vedo sempre ok messaggio finale devi fermarti un pochino di più perché io a volte vengo a cercare di dirti ti lancio dei segnali anzi a volte ti metto anche degli ostacoli per farti delle domande però tu prima non facevi caso con me andai avanti come un toro invece adesso so che saremo più connessi io sono importante anche se tu sai sempre pensato che la mente la cosa più importante ma in realtà adesso stai comprendendo mi era lo spazio perché le cose funzionano in maniera come dici doppio perfetto similare se si collabora uno spirito il corpo la mente e la cosa importante è l'anima perché grazie a me che sei qua che poi grazie alla parte animica che tutto si muove che tutto si crea sono io che creo dando possibilità a me di comunicare di più creerai più cose che ti piacciono e non buttare le emozioni non fa finta e non sentirle senti e provi fanno bene è una delle cose più belle di questo gioco l'emozione ma sali fluire lascia fluire adesso l'energia in te e vedrai che le cose andranno più veloci e non cercare qual è il tuo scopo non esiste uno scopo esiste questo giro che siamo venuti a fare qui e che possiamo dare l'esempio agli altri che ci sono intorno per quello che abbiamo capito ma in realtà lo scopo è semplicemente quello di venire qui fare la propria esperienza comprendere aumentare la nostra consapevolezza per poi inter prendere un altro tipo di percorso non qui o prima devi passare da qui e questa è la scuola questo è l'asilo e medie e dopo dopo non qui si va all'università quindi co titolo questo viaggio senza cercare qualcosa che non esiste che non trovi che non c'è basta come lo vedi lui questo momento lo vedo bene a livello energetico e livello mentale adesso deve dovrà rivedere dovrà metabolizzare metabolizzare come vedi il adesso non ho capito sarà un anello comunque il simbolo di famiglia giusto con seguiamo il telefone un leone che mi ha mostrato in cam lo vedi disattivato attiva se non si può avvicinare a lui in questo momento come una bandiera ok può metterlo dentro una d'eterno grande a sufficienza da contenerlo se vuole mi dice che adesso è compreso che non non ha senso quindi è come se no perché certe cose non esistono più non hanno più modo di esistere senso che esiste da questo punto di vista con questa consapevolezza ma ben altro da farlo va bene sabrina abbiamo finito quindi disconnetti da tutto e tutti